Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che andremo a vedere oggi sono le previsioni per i primi sei mesi del 2022 per quello che riguarda il lavoro e l'economia. Come sempre vi ricordo che sono previsioni fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo vi consiglio di andare a vedere anche il vostro scendente o segno lunare. Bene, la lettura sarà divisa in due parti, quindi nella prima parte guarderemo quello che sono le tendenze energetiche del periodo nel suo complesso, nella sua totalità, mentre la seconda parte vedrà una scansione, diciamo, mese per mese. Bene. Mostrami, capricorno, tendenze energetiche del lavoro e dell'economia per i primi sei mesi del 2022. Allora, cominciamo con il maestro. Guarigione, nessuna cosa e amichevolezza. Carte interessanti. Allora, il maestro, io sento che qui c'è qualcuno che ha bisogno di seguire un pochettino di più quello che è il suo istinto, quello che è, se vogliamo, il proprio insegnamento intrinseco, quello che ognuno sa essere vero per sé nel profondo della propria anima, ok? È come se voi sapeste da che parte dovete andare, però per certi versi non ascoltate quello che è la vostra maestria, ecco, quello che realmente sarebbe adatto a voi. Quello che sento è che per qualcuno si può trattare di una difficoltà nell'iniziare un qualche tipo di percorso lavorativo, progetto, o magari un qualche tipo di collaborazione. Io sento che è come se non aveste ben definiti quelli che sono i vostri confini e quindi abbiate paura, per certi versi, di farvi influenzare, io sento, ok? Con la carta della guarigione, per certi versi, è come se accentuasse quello che è la carta del maestro. Quindi quello che sento è che voi sapete come fare, sapete dove andare, lo sapete, il punto è che non vi ascoltate. Dovete ancora fare quello che è un lavoro, secondo me, in questi primi sei mesi del 2022, per quello che riguarda la coerenza tra la mente e il corpo e lo spirito, ok? Probabilmente si tratta per qualcuno di rimanere coerenti con quello che è la propria passione o magari la propria idea originale per quello che riguarda un lavoro o un progetto. Se non avete magari nessun lavoro in questo momento, quello che consiglia in questo caso il 2022 è di rimanere focalizzati in quelli che sono, diciamo, le proprie passioni, i propri hobby, come vi posso dire, di non accontentarvi di un lavoro qualunque. Ecco, per quello che riguarda questa carta, nessuna cosa, ok? È come se aveste tutte le potenzialità nelle vostre mani. Nessuna cosa rappresenta nulla, però ho il buio, se vogliamo. Però dopo il buio c'è la luce, quindi per certi versi sento che bisogna focalizzarsi su quello che è un obiettivo, un po' quello che dicevamo anche prima, ok? Ed andare avanti, ricordatevi la coerenza, perché comunque sento che fate proprio fatica ad essere amichevoli, se vogliamo, con gli altri. Questa carta di amichevolezza denota quello che è una difficoltà alle relazioni, a quello che è l'unione, a quello che è un compromesso, una collaborazione, la firma di un contratto. Anche la voce interiore è un 2, quindi avete 2-2, e di nuovo parla di quello che è il seguire il vostro istinto. Voi sapete dove dovete andare, cosa dovete fare. Se c'è un qualche tipo di situazione o discorso o parola detta che non vi convince, chiedete spiegazioni, ok? Filatevi del vostro istinto. Se il vostro istinto vi dice questa cosa non mi torna, andate a fondo. La voce interiore comunque è la carta della sacerdotessa e parla di quello che è un superamento dei dubbi. Quindi quello che sento è che questo lavoro comunque verrà fatto, questo puntare l'obiettivo e rimanere diciamo così allineati. Per qualcuno fa riferimento a quello che potrebbero essere i sogni, i sogni che si fanno visualizzando, i sogni che si fanno ad occhi aperti, ma anche i sogni che si fanno nel sonno. Quindi magari per qualcuno in questi sei mesi del 2022 potrebbe essere importante fare attenzione a quello che sognate, insomma, ok? Sento che con questa carta della trasformazione si avvicina a quello che è proprio un cambiamento. Magari è proprio questo lavoro di riallineamento che fa sì che poi voi abbiate questa sorta di trasformazione, che può essere una trasformazione, io sento, interiore. Sento molta spiritualità, vi devo dire, perché abbiamo il Papa e la sacerdotessa, quindi quello che sento è una spiritualità molto molto forte, ok? Sento che per certi versi si avvicina a quello che è un riplasmare, se vogliamo, ok? Quello che è proprio la vostra spiritualità, il vostro contatto con gli altri, il vostro contatto a livello di relazione. Potrebbe essere che per qualcuno si apra un qualche tipo di lavoro a livello spirituale, perché comunque la sacerdotessa, ma anche il Papa, ripeto, sono due carte molto 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 legate a quello che è la ricerca interiore, la spiritualità, avete anche la carta del matto, quindi quello che sento è proprio una sorta di fiducia nuova in voi stessi, ed è probabilmente questo quello di cui parla questa trasformazione. Abbiamo poi l'outsider, vediamo che altro mi danno, queste sono un po' troppe, le reinserisco, una sola per piacere, grazie. Ok, e noi siamo il mondo, quindi quello che sento è che in questo periodo questa trasformazione, questa carta, vi darà la possibilità di uscire da quello che è una gabbia che in questo momento voi sentite di avere. In questo momento intendo in questo arco di tempo di sei mesi, diciamo, no? Perché fondamentalmente, questo è un dieci di denari, il compimento, l'abbondanza, quello che è un aiuto esterno, quello che è un dono, è alle porte. L'unica cosa è che dovete essere voi coscienti, che dovete creare voi questa sorta di uscita, diciamo, no? Perché il lucchetto comunque è aperto, quindi in realtà basterebbe togliere la catena e la porta si aprirebbe. Quindi è un po' una gabbia, se vogliamo, volontaria per certi versi, ok? È un cinque di denari e un dieci di denari, quindi comunque la stesa finisce con dei denari. Fate attenzione perché il cinque di denari potrebbe fare riferimento a quello che sono delle perdite, proprio a livello economico, ma abbiamo anche poi comunque un dieci di denari, quindi io sento che per molti versi si equilibrano un po' queste due carte. Se comunque avrete questo tipo di… ma magari non è una perdita monetaria perché fate un investimento, magari una perdita monetaria perché, non lo so, si rompe la macchina, ipotesi, e quindi dovete investire parte dei soldi che magari erano destinati a qualcos'altro per la riparazione della macchina, ecco. Diciamo che potrebbe essere un qualche tipo di imprevisto a livello monetario, però sento con questo dieci di denari che comunque c'è quello che è un aiuto da parte di qualcuno, potrebbe essere da parte di un familiare, ripeto, oppure magari una vincita al gioco, o magari se già avete un lavoro potrebbe essere una promozione, per esempio, ok? Per quello che riguarda il lavoro, se siete senza lavoro, io qui sento che qualche cosa si avvicina, perché comunque abbiamo un due di coppe, questa carta qui dell'amichevolezza, il due di coppe parla di quello che è un'unione, un compromesso, potrebbe anche parlare di quello che è un contratto, ok? E poi, ripeto, abbiamo dieci di denari, dieci di denari parla di firma di contratti, potrebbe anche essere, per dire, un pensionamento, eh, per qualcuno. Quindi comunque c'è quello che è uno sviluppo, una chiusura di un ciclo, diciamo, e l'apertura di un altro ciclo. Bene, andiamo a vedere mese per mese che cosa vi dicono i tarocchi. Andiamo a vedere, allora, gennaio, iniziamo con la carta della forza, quindi sento che questo mese, comunque, wow, asso di coppe e il sette di coppe. Sento che il mese di gennaio, comunque, inizia in modo stabile, se vogliamo, in modo forte. Per qualcuno si parla proprio di quello che è l'iniziare, un qualche tipo di, come vi posso dire, pensiero o attitudine riguardo, anche un po' di più a volersi bene. Per qualcuno fa anche riferimento al fatto che si inizi, magari, ad iscriversi in palestra, ok? Sarebbe anche sano? A febbraio abbiamo un bellissimo asso di coppe, quindi a febbraio ci sarà quella che potrebbe essere un'offerta di lavoro, nel caso non siate in questo momento occupati, oppure potrebbe esserci un incontro che porterà a quello che è uno sviluppo a livello di lavoro. Infatti vedo che a marzo, poi, avendo il sette di coppe, si aprono una serie di possibilità, quindi potrebbe proprio essere che andiate a incontrare qualcuno, appunto, che vi aprirà, o magari anche solo con il quale farete una chiacchierata, che vi aprirà la mente verso una sorta di nuove possibilità, ok? Potrebbe anche essere, se per esempio avessi un'azienda, un contratto con un nuovo cliente, piuttosto che un nuovo fornitore, ok? Comunque vedo che poi alla fine a marzo c'è questa sorta di nuova possibilità, se vogliamo, che si prospettano davanti, ok? Abbiamo poi di nuovo il Papa, ok? E ce l'avevate anche qui, questo è aprile, quindi ad aprile sento che ci sarà quello che è un affidarsi, anche se vogliamo, al potere divino. Per qualcuno potrebbe fare riferimento al fatto che si inizia un qualche tipo di studio, si approfondisca un qualche tipo di tema, diciamo. Sento che comunque potrebbe anche essere, per qualcuno fa riferimento a quello che è un lavoro da mediatore, magari un mediatore di borso, un mediatore tra varie aziende. E questa potrebbe essere una delle possibilità che magari non avevate calcolato. Un po' un reinventarvi anche. Allora andiamo avanti, vediamo che cosa abbiamo a maggio, abbiamo un asso di spade, quindi un inizio, ricordo qui che avevate un asso di coppe e qui un asso di spade, quindi è proprio quello che è un nuovo inizio. Se qui poteva essere un incontro, qua è un qualche cosa che viene verbalizzato, se vogliamo, è un inizio appunto che viene verbalizzato. Guardate come finisce giugno con l'imperatrice, che è una carta di espansione, una carta di abbondanza, quindi se siete, diciamo così, senza lavoro, la vedo bene. Ripeto, anche qua avete 10 di denari alla fine. E comunque c'è un'espansione, sia che abbiate un lavoro che non l'abbiato, che magari stiate cercando di creare qualche tipo di progetto di collaborazione nuova. Io sento che verso giugno, diciamo che ci sarà quello che potrebbe essere un'illuminazione all'inizio della primavera e verso la fine della primavera quello che è un'espansione, ok? Questo asso di spade per qualcuno potrebbe rappresentare una campagna pubblicitaria, di un prodotto, di un servizio, ok? Bene, ma andiamo a vedere nello specifico di che cosa si trattano queste carte. Andiamo a spiegare un pochettino. Perché abbiamo la forza gennaio, per piacere, grazie per i nostri amici del capricorno. Wow! Abbiamo l'imperatore e il cavaliere di bastoni. Quindi io qui sento che c'è qualcuno che è un po' come un suggerimento a, ok, vai avanti per la tua strada. Continua perseverando in quello che è il tuo obiettivo finale di stabilità. Vai avanti con passione. Quindi sento che qui c'è qualcuno che o potrebbe essere che questo imperatore è una persona che vi viene in aiuto, magari una persona che vi sostiene in quello che è il vostro progetto o potrebbe anche essere, mi verrebbe da dire, una persona che vi dà fuoco nel senso che alimenta questo vostro coraggio, questa vostra forza di farcelo, ok? Oppure semplicemente potrebbe essere quello che è una ritrovata forza interiore dentro di voi, ok? C'è un qualche cosa che vi fa scattare, vi fa andare avanti, vi fa mirare a questa stabilità di cui parla l'imperatore l'imperatore potrebbe anche essere una nuova collaborazione, un nuovo capo, qualcosa per lo stile. Andiamo a vedere perché abbiamo l'asso di coppa, per piacere grazie, spiegato da un appeso e da un dieci di spade al contrario. Sì, c'è qualche cosa ancora che va probabilmente rielaborato, il dieci di spade al contrario vuol dire che c'è un ciclo che si dovrebbe chiudere per iniziare questo tipo di asso di coppa, questo tipo di incontro, di unione, di proposta, offerta. Ma abbiamo anche un appeso, quindi sento che le cose potrebbero andare un po' a rilento, ok? C'è qualche cosa che dovete comunque ancora valutare bene, io sento. L'appeso mi parla sempre di quello che è il cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, quindi probabilmente questo dieci di spade potrebbe rappresentare un qualche tipo di ferita che avete avuto nel passato a livello lavorativo, qualche tipo di tradimento, qualche tipo di delusione che avete ancora un attimino paura di rivivere e quindi l'appeso vi dice ok, è vero che c'è l'incontro, ma c'è un po' di titubanza, si sta ancora un pochettino cercando di analizzare bene la situazione, la questione, insomma. Il sette di coppa è spiegato da un fante di bastoni al contrario e da un sei di bastoni e dal carro. Quello che sento qui è che non bisogna prendere troppo alla leggera quelle che sono le possibilità e quelle che sono le illusioni, ok? Bisogna un attimino imparare a discernere, a capirlo, perché secondo me per qualcuno c'è una specie di… è come se foste ancora talmente tanto impegnati dentro di voi che non riuscite a fare le giuste valutazioni del caso prendendo un pochettino sotto gamba quello che è il dare una direzione, se vogliamo, a questo tipo di progetto, a questo tipo di situazione o di lavoro, insomma, di idea, ok? C'è la possibilità di arrivare a questo sei di bastoni che è la carta del successo, c'è la possibilità di arrivare a quello che è il conoscimento, però ripeto, bisogna cercare di capire quali sono le reali possibilità e quali invece sono solo illusioni. Andiamo a vedere questo papa per piacere, grazie. Il papa è spiegato da un cavaliere di spade dalla morte al contrario. Di nuovo, la morte è la stessa carta della trasformazione, ok? Ce l'avete due volte. E' come se ci fosse qualcosa che un po' impedisce di fare questo passo, di fare, se vogliamo, questo atto di fede. Andiamo a vedere la... grazie. Wow! La sacerdotessa, e ce l'avevate qui. Il papa, e ce l'avevate qui. Allora, sto papa ce l'avete per ben tre volte, ok? Quindi è proprio forte per qualcuno quello che potrebbe essere, diciamo, l'intorno sociale. Quello che potrebbe essere per qualcuno... Il papa parla anche di un'ufficializzazione, quindi magari si parla proprio di firmare un contratto, ok? Però quello che sento è che c'è da fare un qualche tipo... Cioè, allora, l'asso di spade di solito parla di una comunicazione. Parla di un qualche cosa che, diciamo così, una comunicazione, un fatto che segna un prima e un dopo, no? Nel senso che comunque con l'asso di spade vengono tagliate via le cose che non servono più, viene fatta una sorta di chiarezza mentale. E io sento qua che, avendo di nuovo la sacerdotessa e il sacerdote, potrebbe essere per qualcuno che si inizi un qualche tipo di attività a livello spirituale, che si inizi un qualche tipo di associazione, piuttosto che di sito internet, piuttosto che, non lo so, un qualche tipo di cosa che è connesso comunque con quello che riguarda la spiritualità. La sacerdotessa fa riferimento proprio a quelle che sono anche un po' le doti psichiche, ok? Diciamo che è più propria del divino femminile, mentre il papa è proprio del divino maschile. Quindi sento che c'è una sorta di equilibrio, per certi versi, che porta comunque a quello che è l'imperatrice. Andiamo a vedere quest'imperatrice. Allora, abbiamo un 4 di bastoni, un 3 di bastoni e un 9 di bastoni. Sì, in effetti il 4 di bastoni è al contrario, quindi diciamo che può essere che ci sia quello che è un'espansione, ma probabilmente il 9 di bastoni è qua per avvisarvi di non abbassare la guardia. Aspettate un attimo prima di, se vogliamo, rilassarvi. È vero, le cose sono partite, magari c'è questo nuovo progetto, c'è questo nuovo lavoro, ma diciamo che ancora le cose non sono concrete, non sono stabili. Può essere che per qualcuno sia stata solo un'idea, una comunicazione, no? Se vogliamo, di un qualche tipo di idea o di progetto. Dunque, in questa zona della lettura sì, avete dei denari, in questa zona della lettura no, non ci sono carte, ma neanche una proprio. Quindi sento che non ci saranno grossissimi movimenti. Ripeto, mi viene un po' da dire che così non vi mancherà niente, però non diventarete ricchi, insomma, quest'anno. Mettiamola così, ok? Per qualcuno potrebbe essere che nella primavera ci sia la necessità o di cambiare macchina o di comprare una macchina o magari un attrezzo per l'azienda, attrezzo macchinari, materiali, materiali no, più attrezzature io sento, ok? Che altro? Sì, ecco, diciamo che ad aprile io sento che è come se vi venisse un'illuminazione, in un'idea, o comunque è lì che sta per, ok? Questo cavaliere di spade è comunque un cavaliere determinato, che parte dritto per la guerra, per ottenere quello che vuole. Diciamo che forse ha dei metodi un po' antichi e sarebbe ora di diventare un pochettino più moderni, se vogliamo. Probabilmente il Papa è qui anche per ricordare quello che è la società, l'ambiente, quindi la necessità di cambiare, di evolvere, mano a mano che evolve la vita, insomma. Bene, quindi due assi ci sono, potenziali lavori nuovi in arrivo, contratti, non vedo grossi movimenti di denaro, come già vi dicevo, però comunque non sono brutte carte. Bene, allora io adesso volevo andare a vedere un messaggio un pochettino più specifico per i disoccupati, un messaggio per gli occupati e un messaggio per gli autonomi, così per darvi uno spunto in più. Allora abbiamo un 4 di coppe, 4 di coppe parla di quello che è un qualche tipo di offerta e qui abbiamo l'asso di coppe che parla proprio di quello che sono le offerte a febbraio, di un qualche tipo di offerta che comunque, guardate un'altra volta il 10 di spade, che comunque voi per certi versi non state vedendo, ok? Oppure non volete prendere in considerazione. Poi abbiamo la giustizia, mettiamola così così si vede meglio, la giustizia e il karma, quindi qui sento che c'è un... Allora avete un 10 di spade che è un uscire da un ciclo. Probabilmente questo o è un rifiuto, voi rifiutate un qualche tipo di lavoro o siete stati rifiutati in qualche tipo di lavoro. Questo voi lo state subendo comunque come una... non dico un'offesa, però comunque vi ruga un po'. Insomma ci siete rimasti male, magari siete in una fase un po' così triste, scoraggiata perché non riuscite a trovare un lavoro, però avete la giustizia e il karma, quindi io qui sento che per giustizia divina arriva quello che è una sorta di compensazione. Il karma è la carta del giudizio, che letteralmente vuol dire chiamate, rappresenta la chiamata universale, diciamo, e quindi può far riferimento a quello che è un'illuminazione, l'idea, ripeto, di cui si parlava qui, oppure proprio quello che è una chiamata magari di lavoro che state aspettando, ok? Quindi, beh, il messaggio è anche questo, diciamo. Andiamo a vedere... Wow, per gli occupati abbiamo un 2 di coppa al contrario, e la, nella prima stesa, la carta dell'amichevolezza è un 2 di coppe. 2 di coppa al contrario, e il carro al contrario, il carro era uscito anche qui. Quindi sento che c'è la difficoltà a dare una direzione, se vogliamo, ad un'unione. Ecco, se state cercando magari di fare un progetto con qualcuno, fate prima, da subito, diciamo, una scaletta, ok? Dove scrivete quali sono i punti cardinali che andrete a sviluppare durante questo progetto, magari le fasi di questo progetto, le tempistiche. Però, ecco, trovate una via comune, se vogliamo, perché sento che è un po' questo il problema nel vostro intorno lavorativo, ecco, se vogliamo. C'è qualche tipo di difficoltà nelle relazioni, probabilmente sono dei colleghi, ok? Sento che per qualcuno è un po' impossibile andarsene, probabilmente perché avete dei vincoli, questo non lo so. Però, ecco, si tratta di, come vi posso dire, non dico di non prenderla sotto gamba, di dargli il giusto peso a questo tipo di problema relazionale che voi avete con quello che può essere un collega piuttosto che un capo, non cercate di sminuirlo perché se no i pensieri vi mangiano. Che va bene, può anche essere un'ottima tecnica se la cosa è davvero pesante. Però ricordiamoci sempre che le persone che si incontrano nella vita sono il nostro specchio. Quindi se c'è qualche cosa che ci dà tanto fastidio di un'altra persona è perché questa persona fa vibrare in noi stessi qualche cosa che ancora non si è lavorato. Quindi se siamo noi che iniziamo a lavorare questo qualche cosa che ci dà fastidio, alla fine iniziamo a reagire diversamente nei confronti degli altri e di conseguenza anche gli altri finiranno con il reagire diversamente a noi. Se magari prima si aveva davanti una persona ostile, dopo un cambiamento, diciamo, interiore da parte vostra, vedrete che quell'ostilità non sarà più uguale a prima. Andiamo a vedere per gli autonomi. Wow. Periodo conflittivo per gli autonomi ancora. Ok, grazie. Dicevo periodo conflittivo per gli autonomi. Abbiamo un 8 di spade e un 6 di spade. Allora, per qualcuno questo 5 di bastoni rappresenta quello che sono la concorrenza, ok? Quindi fate attenzione alla concorrenza, fate attenzione ai progetti che per certi versi vi rubano e quello che sento è che questo tipo di situazione vi crea non pochi pensieri. Ma il consiglio è proprio quello di lasciare andare questi pensieri tossici che tanto non vi servono. Focalizza, ecco, perché anche la società del Papa, quindi l'ambiente circostante, soprattutto se fate un lavoro con il pubblico, quindi magari un canale di YouTube, piuttosto che, magari non lo so, siete un personaggio di rilevanza dentro l'azienda, dentro la vostra cittadina, comunque. Allontanatevi da questo tipo di pensieri perché non vi fanno bene, vi creano solo sensi di colpa, ok? Se fosse riferito a un tipo di disaccordo con dei colleghi, con dei collaboratori, insomma, allontanatevi da questo tipo di energie. Se è il caso, allontanatevi anche proprio dal progetto, cioè dividete la società, fate quello che... perché comunque è una cosa... questo otto di spade alla lunga poi logora dentro, ok? E' sicuro che sono pensieri vostri, però se non riuscite a gestirli, come dicevamo anche qui, piuttosto prendetevi un periodo, fatevi un viaggio, sei di spade vi parla di un allontanamento, di lasciarsi indietro delle credenze limitanti, oppure fisicamente di fare un viaggio. quindi magari potete anche, insomma, considerare l'idea di prendervi una vacanza. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli che a me piacciono tanto, vediamo cosa vi dicono, grazie. La fiamma blu, perché questo vuol dire, è praticamente il colore dell'animo. Il blu è un blu elettrico, quasi... ma è più fosforescente di questo blu qua che io uso per il tappetino. È proprio un blu acceso. E la carta dice, connetti con quello che è la tua anima. Quello che dicevamo qui, no? Voi sapete già dentro che è la luce del puro amore dentro di te. Quindi quello che sento, il consiglio, insomma, che vi voglio un po' dare è cercate dentro, dentro il vostro spirito, cercate quello che è la vostra coerenza tra la mente, diciamo, e il corpo, e l'anima, il cuore, insomma, e cercate quella luce pura dentro di voi. Perché ognuno di noi è, insomma, è puro nel profondo, ok? Bene Capricorno, bellissima lettura. Io spero che in qualche modo ti sia stata utile. Puoi mettere un like se ti è piaciuta, puoi iscriverti al canale o condividere. Io ti ringrazio tanto per essere stato qui con me. Ti mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!